Aspettiamo che l'aereo si riempia e poi partiamo. Prendiamo mascherine sul naso e partiamo. Antonio, ci hanno diviso. Ragazzi, ci hanno diviso. Faremo di tutto per i paparenzi. Ancora per poco. Vai in contatto. There we go. Spettiamo di tutto per i papi. Antonio siamo arrivati, la legge prese fa caldo, fa caldo, ok vi dico solo fa caldo. Grazie a tutti.